guarda come andava in giro certo mette questo e porta l'ombrello fai sempre le capoccia tua fai sempre testa tua io veramente forza è una cosa sì ma come si sta a comporta allora vedi che già c'è l'ombrello e poi c'è il sole no è l'ombrello l'ha portato per menare alle persone e quindi come si sta comportando malissimo no a pasqua a pasqua benissimo a pasqua pasqua ne era male oggi ma malissimo fa il palio delle siena la quintana la quintana il quintale fa il quintaletto belli questi pantaloni belli carini carini ma se ce l'ha guarda guarda però non è tutto il coglione ma di cazzo non ti tocca il teatro non ti tocca il teatro non ti tocca il teatro Grazie.